Il concept di U-Joints potremmo chiamare i nodi che tengono il mondo assieme. Il concetto di U-Joints si riassume nell'idea dell'incastro da un punto di vista pragmatico e della collettività da un punto di vista più concettuale. L'idea chiave è quella di mettere insieme cose e persone. Joint è il concept di questa esposizione e quindi Joint Juventus-Segafredo nel mondo. U-Joints è un concept che ha l'obiettivo di essere presenti in un contesto internazionale con un luogo che possa raccontare quello che è Juventus. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS